Un passo indietro dei gestori delle pompe sarebbero state le rassicurazioni del governo ad accogliere alcune richieste dei benzinai, a fermare lo sciopero già in agenda per il 25 e 26 gennaio. Al momento resta congelato in attesa di un confronto che prosegue a partire dal tavolo tecnico fissato per martedì. Dietro le polemiche degli ultimi giorni sul caro carburante scoppiato all'indomani della fine del taglio delle accise, c'è l'approvazione del decreto trasparenza che prevede sanzioni per chi non si attiene alle nuove regole. Tra queste quella di esporre il prezzo nazionale medio che verrà elaborato quotidianamente dal Ministero dell'Ambiente e quello praticato, con il rischio di pagare una multa fino a 6.000 euro e per i recidivi di vedersi chiudere la pompa da 7 fino a 90 giorni. Paletti giudicati eccessivi dagli addetti ai lavori, tanto da portare l'esecutivo a introdurre una rimodulazione che sarebbe già stata inserita nel testo oggetto di modifiche. Da qui le rassicurazioni ai benzinai che si sono convinti a sospendere lo sciopero. Oltre ad ammorbidire le sanzioni, nel testo sarebbe stata inserita una distinzione tra i ritardi e le omesse comunicazioni nell'esposizione dei prezzi. Ora l'intenzione è quella di esaminare il testo del decreto sulla base di quanto concordato nell'incontro tra le associazioni di categoria e il governo. In una nota le sigle sindacali hanno spiegato che si apre un percorso che può portare a rivalutare lo sciopero proclamato per fine mese. I gestori hanno puntualizzato non hanno alcuna responsabilità per l'aumento dei prezzi né per le eventuali speculazioni di cui si è parlato.